Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Trentacinquesimo appuntamento con Grande Fratello. Puntata ricca di confronti e di incontri per i concorrenti. Perla sembra essere ancora toccata dall'incontro avuto con Mirko nella scorsa puntata e riceve una sorpresa speciale, sua sorella Loana. Greta è protagonista di un triangolo, divisa tra Sergio e Vittorio. Vittorio perde al televoto e deve abbandonare definitivamente il gioco. Una uscita che divide la casa. Greta ha dato prova di essere una ragazza open mind, e non ha ancora deciso se le piace di più Sergio o Vittorio, o magari li vuoi tutti e due, la stuzzica Alfonso Signorini. Ad oggi sono entrambi amici, ha sempre ripetuto lei. Mentre Sergio accusa Vittorio di usare Greta solo per una questione di gioco, Greta chiarisce, non devo scegliere nulla, io voglio bene a entrambi in modi diversi. Non sono venuta qui a cercare il fidanzato, con Vittorio vivo un rapporto adolescenziale, leggero, con Sergio parlo di cose profonde. Sergio e Vittorio sono entrambi molto interessati a Greta e Cesara buonamici le dà un consiglio vai dove ti porta il cuore. Greta nasce come tentatrice di Temptation Island adesso si ritrova a non scegliere, interviene Signorini. E il momento delle nomination? Simone e Alessio non sono nominabili e non possono nominare. Il meno votato sarà a rischio eliminazione nella puntata del 14 febbraio.